Un pranzo a capocchia, questo è tutto capocchia, a nessuno, no signora non l'ho pubblicato, questi ve le rubano, le patate crude e tritrate, che è quello, curry, signor, bellissimo, dove va a studiare, da Oxford, un pavimento, si con le mattonelle di maiolica, le ceramiche di vetri proprio, perché queste qua sono quando lo mangiate, Non sembra le stesse cose, signor, una manciatina di prezzemolo, una manciatina, si, mangio, un poco di carne tritata, signor, ma i cucciai non ci sono a casa, vabbè forse sta facendo la lavassobio, gli spinaci, si prezzemolo, avete fatto già cuocere, perfetto, sa abbraccio di ferro che le sta piangendo, un poco di te, genuino, a pavimento, Sì, ma il pavimento è sporco pulito, un poco, giusto quei sei chili, sì, le carote, ma siete fissati con patate e carote, vabbè, ma non stiamo facendo l'arcobaleno, signor, noi vogliamo cucinare un piatto, sennò prendiamo l'arcobaleno, sì, mai nessuno, è un motivo, magari ci sta, signor, Voi l'avete pensato, mi piace questa cosa, mi piace questa cosa, che voi pensate anche le cose proprio, però no, è bello, ma a parte tutto, sì, la vostra famiglia mangia, è sformata nel senso che non ha, cioè, quando è sformata, non ha nessuna forma, la salsiccia sbriciolare, ecco, non è bello, 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 rusticissima questa cosa, la salsiccia proprio con le mani, con un po' di unghia, bello, sì, se no, non la togliete, come dice il chef, in me, sommo chef, se volete ce la mettete, se non volete, non ce la mettete, cioè, quella alla fine è, sì, altre patate sopra, Che è bellissime, belli, non si potevano bollire prima, Signor, ma le piatte prima si provano e poi si dicono agli altri, che se viene male, cioè, Ah, ah, non si sa mai che si brucia, signora, signora, i capolavori devono, in una teca di vetro devono andare, questi capolavori, Andiamo, agli altri, e andiamo di impornare, plo, 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 eccolo qua, perfetto, Oggi il pranzo di mamma mia è questo, le patate grattugiate, le carote grattugiate, potete farle di... Le patate grattugiate, i formaggi grattugiate, Alla... Sì, signore, ma l'avete fatto, l'avete provato, La cipolla tritata, Signore, che non lo maniate, pure il pomodoro tritato, Pure il pomodoro tritato, E' tanta capoccia, Lasciate perdere tutte quelle persone che fanno i pelli, i capelli, i capelli, quelle sono le uniche persone che non fanno nulla Nulla, e vedete, è un bacio